La città con la più alta qualità della vita in Italia è Milano, città capoluogo della regione Lombardia. Roma si piazza pensata al ventunesimo posto, tre posizioni in più rispetto all'anno passato e sopra a Firenze. Il capoluogo Lombardo dunque vince la ventinovesima edizione della qualità della vita per quanto riguarda le città d'Italia. Un risultato davvero inedito nell'indagine annuale del sole 24 ore dell'anno in questione. E andando a vedere quali sono le città dove si sta meglio, dove la qualità della vita è più elevata, ripeto, troviamo al primo posto Milano, al secondo Bolzano, al terzo posto Aosta, al quarto posto Belluno, al quinto Trento, poi abbiamo Trieste, Bologna, Pordenone, Treviso, Gorizia al decimo posto, poi Ravenna, Lecco, Verona, Sondrio, Modena, Bergamo, Vicenza, Reggio Emilia. Roma pensate che, ripeto, si trova al ventunesimo posto per quanto riguarda la qualità della vita. Insomma, all'ultimo, che è il numero 107, pensate che abbiamo la città di Vibo, Valencia. E al penultimo, che è il 106, abbiamo la città di Foggia, in Puglia. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, datevi la vostra opinione per quanto riguarda la tematica che ho voluto trattare nella data di oggi, 17 dicembre 2018, dove Milano è la città per quanto riguarda la qualità della vita, dove si sta meglio.